Era stata assunta per assistere un'anziana, ma le aveva portato via gioielli e denaro. Una badante di origini rumene di 50 anni è stata così denunciata dai carabinieri della compagnia di Sansepolcro per aver circuito e derubato la donna della quale si prendeva cura da circa due anni. L'indagine, andata avanti per mesi, era partita a seguito della denuncia presentata dagli eredi testamentari dell'anziana. I carabinieri hanno così scoperto che in seguito alla morte della donna si era verificato un ammanco di monili in oro e depositi bancari, un colpo insomma da poco meno di 10.000 euro, ai quali si aggiunge il valore dei gioielli scomparsi. I militari hanno scoperto che la cinquantenne, approfittando della fragilità psicologica e fisica dell'anziana, dopo averne carpito la fiducia, si era appropriata dei preziosi e dei soldi. La badante, fin dai tempi in cui aveva iniziato a lavorare per la famiglia, sarebbe infatti riuscita a raggirare l'anziana con la falsa promessa di accudirla sino al decesso.